ciao a tutti oggi sono qua davanti al forno perché facciamo la nostra pulizia qua so qua un casino guarda qua devo pulire il forno perché abbiamo fatto il pesce questa settimana e guarda c'è proprio da pulire faccio quella miscela speciale che faccio sempre qua per forno che è velocissima è naturale mamma mia guarda qua il vetro come sporco sto vedendo adesso io volevo fare un modo di togliere questo vetro qua ma non c'è come non so come togliere questo mio vetro qua per pulire dentro e volevo invitarti anche se tu sei già iscritto nel canale se tu non sei iscritto a iscriversi qua a fare mi piace in questo video e a condividere questo video con i tuoi amici ho qua la cucina bella diciamo organizzata bella ordinata anche la sala ordinata tutto ordinato qua come faccio come lascio la mia casa sempre ordini c'è qua nel canale un ebook gratuito quindi se volete scaricare è solo andate lì giù nella descrizione che può scaricare gratuitamente l'ebook o se non qua su di sopra nella nella scherda ci lascio anche lì l'ebook gratuito con le abitudini preziose per lasciare la casa sempre così in ordine adesso facciamo qua la nostra miscela che è semplice e veloce e iniziamo a pulire questo forno la prima cosa che faccio è togliere la griglia per lavare metto lì nel lavandino e così lavo tutti insieme e dopo facciamo la nostra miscela che è facile e veloce questa miscela è molto semplice e molto facile metto sapone dei piatti la quantità è quella che vuoi tè dipende della misura del tuo forno di quanto vuoi fare io metto a occhio che ormai sono già abituato lo so già cosa devo mettere e metto sapone dei piatti dopo metto due cucchiai di bicarbonato di sodio lo mischio bene 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 e questo è già un cifre fai da te che io ho anche qua nel canale dopo di che io prendo meso limone per mettere dentro di questa miscela come vi ho detto quando io metto meso limone guarda che effetto che fa diventa proprio una schiuma e è bellissimo ho messo la metà del limone dentro e adesso è solo mischiare e è fatta la nostra miscela dopo di che tu prendi una espugna e passa la miscela nel forno passa bene 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 dove ci sono tutte le parti che c'è è sporco io passo d'apertura tutto questo forno qua è un forno antico ma anche se così io lo pulisco sempre bene qua dentro c'era tanto sporco era sporco di pesci e c'è pieno di grasso che tante volte loro mettono qua anche la pizza per riscaldare mio marito il suo figlio e non sono lì sempre a mettere la carta tutte quelle cose che facciamo noi che siamo donne quindi diventa sempre un po brutto ma per pulire è molto facile metto qua tutto lascio qua per un po e metto anche qua nel vetro metto bene la miscela dappertutto sempre con una spugna e dopo lascio qua per un po di tempo adesso vi faccio vedere metto il forno a scaldare come vi ho detto lascio il forno a scaldare quando in quanto si scalda non è che bisogna lasciare 10 minuti no è veramente solo per lasciare il forno tiepido non bisogna lasciare scaldare tantissimo massimo due o tre minuti è già pronto bello caldino e con quello che avanza dalla miscela io sempre uso per lavare la griglia e questa parte qua è quella che dà più fastidio perché c'è sempre tantissimi tantissimi sporco che si accumula qua e come vi ho detto loro non mettono sempre la carta forno o la carta alluminio quindi è un problema io passo sempre la spugna con la miscela quando vedo che non va non esce io prendo quell'altra spugna che è un po più aggressiva e la uso ma solo se c'è veramente bisogno oggi sono qua con questa spugna della Vileda che è molto buona e uso questa e la miscela dopo lavo bene anche la griglia quell'altra di sopra quando il forno è tiepido e tu riesci a mettere la mano non mettere la mano quando è caldo lascia raffreddare un po' io prendo aceto aceto di alcol lo metto dentro e inizio a togliere la miscela perché usare l'aceto perché l'aceto toglie bene a fondo il bicarbonato di sodio e non rimane residui quindi per quello io uso sempre l'aceto di alcol per risciacquare ma non solo quello io tolgo la prima parte del bicarbonato con l'aceto e dopo passo normalmente il panno umido con acqua qua come vi ho detto continuo la pulizia solo che adesso io ho già lavato bene lo straccio ho già lavato bene il panno microfibra con acqua normale e adesso finisco di togliere tutti i residui del bicarbonato di sodio e tolgo tutto puntino per puntino tutte le parti sopra giù su dove c'è il bicarbonato io lavo bene il panno vedi che il panno qua qua dentro di questa acqua c'è acqua e un po' di aceto l'ho messo ancora un po' di aceto ma pochissimo è solo veramente per risciacquare bene il forno e questa miscela pulisce veramente a fondo perché quando tu finisci di pulire il tuo forno tu vedi bene che non c'è più grasso non c'è più residui di bicarbonato di sodio quindi vale molto la pena fare questa miscela io la faccio sempre che vedo che il forno è così sporco è già da tanto tempo che la uso e non c'è nessun problema perché è una miscela naturale faccio sempre come vi ho mostrato con sapone dei piatti bicarbonato di sodio e aceto di alco per togliere il bicarbonato quindi l'aceto di alco tantissime persone mi chiedono dove possono trovare tu li trovi o ad Auscham o ad Simpli o ad Essilunga tu trovi lì l'aceto di alco che è un aceto fatto proprio per pulire e va bene anche per igienizzare gli alimenti igienizzare le frutte è molto buono è un aceto veramente buono è un po più levi che l'aceto di vino bianco perché l'aceto di vino bianco c'è un odore più forte invece l'aceto di alco c'è meno odore e per quello è più bello da pulire comunque io ho usato un panno in microfibra per sciacquare come avete visto ho lavato bene dentro e adesso passo un panno in microfibra secco solo per lasciare brillante qua l'acciaio che questo è anche un trucchetto che io penso comune tutte le persone lo sanno è un trucchetto che lascia veramente brillante l'acciaio guarda che bello pulito queste macchie che c'è ancora nel vetro è dentro io non so togliere bisognava togliere e pulire dentro guarda che bello è un specchio questa michela pulisce benissimo io ho già fatto tantissime volte qua nel canale ma sempre mi piace far vedere perché c'è sempre qualcuno che non ha ancora visto questa pulizia qua fuori io passo sempre un panno umido con acqua e un panno asciutto e rimane così bello pulito se ti è piaciuto questo video non dimenticare il mio like un bacio alla prossima ciao ciao